Tyler, lei è finora l'amico porzione singola più interessante che abbia conosciuto. Io ho questa idea. Sull'aereo tutto è porzione singola, anche le persone. Ah, ho capito. È molto acuto. Ah, grazie. E le dà soddisfazione? Cosa? Essere acuto. Tanta. Continui pure, allora. Continui pure. Ora una questione di etichetta. Mentre passo le do il culo o il pacco. Ok.